È una sorta di media tra il posizionamento nelle guide di vino italiane, quindi una sorta di rating che facciamo noi di associazione Sommelier Pescara da 20 anni e quindi premiamo le migliori tre che performano, diciamo, sulle guide. È diventato premio internazionale perché premiamo anche dei vini di fuori Italia, quest'anno premiamo lo Champagne Blanc de Blanc di Maison Abelais e con l'export manager che viene a dare il premio a Pescara da Rams, che secondo me è una cosa molto molto carina, sì. E poi abbiamo dei premi speciali che diamo a delle aziende che hanno performato l'Italia e c'è naturalmente il primo speciale di Meglioranum e quello di Autobruzzo, che sono quelli più famosi che sabato sveleremo. Mi piace ringraziare i produttori che sono sempre molto presenti, gli sponsor che mi danno l'opportunità di continuare a fare questo evento e le istituzioni che ci stanno vicino. E poi la comunicazione, la comunicazione è fondamentale. Se noi abruzzesi riuscissimo a capire quanto è importante la comunicazione, noi saremmo un po' meglio, dai, diciamola così.